Reccoci insieme col Biancherosso TV Sport, Gigi ovviamente le incertezze sul futuro societario creano incertezze rispetto alla posizione di Torrente e Angelozzi stesso. Siamo decisamente in ritardo, siamo in ritardo perché poi alla fine, nel momento in cui uno viene confermato Torrente e mi auguro che la società, vista e considerata la presenza assidua... Questo è lo striscione che meritava Torrente ed è bello che, anche il senso, comunque vada grazie il mister Torrente, comunque vada è importante. Considere che noi abbiamo la pessima abitudine, io ti dico francamente l'anno scorso ho attaccato qualche volta Torrente, lo dico, nella vita sbagliare è facile, riconosci i propri errori, è un indice saggezza, non voglio che data la mia età possa essere un vecchio saggio, però ti dico che effettivamente lui è stato bravo perché è riuscito, nonostante la penalizzazione, a valorizzare alcuni giocatori e nello stesso tempo si è praticamente sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda della tifoseria. A differenza di altri tecnici che hanno parlato di libidina a Bari, sono andati a Torino e parlano ancora di libidina. E mi riferisco a Ventura, ti posso assicurare, lo dico con una tranquillità unica, io mi auguro che il Torino, mi dispiace per il Torino, per la storia del Torino, possa retrocedere perché Ventura è un presuntuoso. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Tonio di Bari Mani, saluto l'ospite. Grazie. Enzo, per quanto riguarda Torrente, lui per due anni ha dato tanto al Bari, però c'è un piccolo neo che io voglio essere spiegato, perché nel momento che il Bari stava andando verso i play-off, lui ha escluso i due giocatori più in forma del Bari, sia Schaudone che Fedato. Questa è l'unica cosa che lui dovrebbe spiegare, perché è una cosa inspiegabile. Poi un'altra cosa Enzo, per quanto riguarda la vendita del Bari, è stato detto che Matarese si accollerà a tutti i debiti, ma la forbice per quanto riguarda il costo del valore del Bari, dai 7 ai 15 milioni di euro, chi l'ha fatto Enzo? Voglio una risposta. No, cosa vuoi dire? No, chi ha dato questa valutazione? Senti, sono spifferi per carità, però la valutazione, io sapevo non 7,15, io lo sapevo tra i 10 e 12 ad esempio. Tra i 10 e i 12, ma chi ha dato questa valutazione? Evidentemente qualcuno vicino al Bari. No, perché io ho sentito sulla Gazzetta, invece Sofisini ieri mi disse che Matarese non aveva dato mai una valutazione per quanto riguarda... Sì, Matarese non in prima persona no, però diciamo probabilmente persone che gravitano nel ambiente del Bari, vicino alla società, ritengono che sia quella poi la cifra per la quale si ritiene che il Bari possa avere un valore, parco giocatori, storie e compagnia bella. Però Antonio Matarese non ha fatto questa valutazione, non l'ha voluta fare dicendo che solo a fronte di una trattativa, allora si scoprono le carte, però ambienti vicini al Bari ci hanno in qualche modo sussurrato che l'idea è quella di una cifra fra i 10 e 12 milioni di euro, che potrebbe anche diventare probabilmente... In quella riunione si è parlato di quando è stato venduto il Lecce, allora in momenti in cui dicono che il Lecce è stato venduto 7 milioni, 7 e 5 per il rimborso praticamente televisivo sono 12, io non ho mai detto che Matarese ha parlato di questo, cosa più importante è che a noi risulta che il Lecce è stato regalato da Semeraro ai fratelli Tesor dando un milione e mezzo, ecco la differenza della valutazione. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Pino Pinto, senti, stamattina ho chiamato in radio e ho chiesto a Cristian di verificare con Antonucci, perché credo che sia... nessun giornalista l'ha rimarcato, la vittoria di sabato è stata la millesima vittoria del Bari, nella storia del Bari. Beh, l'avrebbe detto il professor Antonucci, mi pare che... Eh però, dall'almanacco risulta questo, poi non so se... e poi in altra... Sì, continua, continua. Non sono d'accordo con Gigi Frisini poi per la retrocessione del Torino, io preferirei l'anno prossimo andare a Palermo e a Trapani a vedere il Bari, grazie. Grazie, a Palermo e a Trapani, vuole il Palermo in serie B. Allora, Fedato, sentiamo cosa ha detto quello che insomma sta diventando un po' l'uomo della provvidenza ha cominciato con due goli inutili, poi gol decisivo con il Grosseto al novantesimo pareggio decisivo con il Livorno a pochi minuti alla fine e il gol di testa che a mio avviso vale mezza salvezza sabato scorso contro lo Spezia, sentiamo. Ghezzal ha messo dentro, io ci ho creduto, il mister ci dice sempre di andare a attaccare il primo palo io ci ho creduto e è andata bene così. È stato un gol importante e sia io che i miei compagni oggi ci tenevamo molto a raggiungere i tre punti in un modo o in un altro. Secondo me ce lo siamo meritati a pieno perché io non mi ricordo azioni pericolose dello Spezia e anzi penso che il primo tempo abbiamo guadagnato 15 calci d'angolo e questo dimostra che eravamo sempre attenti come vuole il mister a pressare e ci meritavamo oggi questa vittoria secondo me. Sia io che Nicola abbiamo dimostrato che comunque possiamo starci e il mister anche mangia, ci ha detto di tenerci pronti comunque e noi adesso cerchiamo di far bene queste partite per convincerlo e in questi tre giorni comunque di raduno ci siamo comportati tutti e due molto bene. Evviva Fedato, c'è la Nicoligna, pronto? Per quanto concerne Ventura, anche a me piacerebbe andare in Sicilia però il problema è solo quello, è un fatto di antipatia perché a me la gente che cambia, cambia e poi è confermata la regola del secondo anno di Ventura. C'è la Nicoligna, pronto? Ciao Enzo, sono Paolo, saluto signor Presidio. Grazie. E se volete rimarcare una cosa signor Antonio, ogni volta che parla al signor Antonio Della Sur sarà un tifoso come noi grandissimo addirittura dice che il padre deve andare ai playoff ci dà la colpa alle naturi. Se io ero torrente, le condizioni che c'è il Bari ci hanno avuto andato prima di cominciare il campionato. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Beh, diciamo, torrente sei motivi evidentemente per i quali non dimentichiamo che in quel periodo il Bari però non andava come oggi. Un po' tutti erano giù di forma, compreso Sciaudone, ha avuto un momento di appannamento Sciaudone a un certo punto del campionato come capita a tutti, lo stesso discorso per Fedato. Io se proprio un appunto devo muovere a torrente che però continuo a definire come forse uno dei migliori tecnici della B in assoluto ed uno adesso pronto per la Serie A ne sono convinto sul piano tecnico, poi sul piano umano una persona eccellente, eccezionale anzi, al di là di questo forse dopo il mercato di gennaio troppi cambiamenti che tutto sommato hanno forse svilito quanto avevano fatto i giocatori protagonisti della fase migliore del Bari. Noi ci siamo ritrovati in Bari Ascoli con una formazione che non sembrava più la stessa. Quel giorno giocò Aprile, quel giorno giocò Tallo subito titolare, insomma ci furono po' però per carità parliamo di una cosa sulla quale poter almeno discutere rispetto a mille cose buone. Il mio giudizio è che è stato un allenatore da nove in questo campionato e per me sarà l'artefice principale della salvezza del Bari perché poi ha saputo riprendere una squadra che si stava perdendo. Lì se non sei forte nello spogliatoio, se non hai un rapporto speciale con i giocatori, affondi. La partita di Vicenza è stata una partita clamorosamente importante. Il mese di Mars è stato il mese di Mars. Poteva diventare le iddi di Mars come c'è essere, ci ha salvato. Però a partire all'attornante del caldo di rendimento c'è da dire che quest'anno tutta la B non era preparata a quella lunga sosta. E' chiaro qualcuno può aver sbagliato. Però c'è da dire che la squadra dopo una breve parentesi alla fine ha trovato la condizione al punto tal di recuperare i tre gol a Lanciano. E se non hai una condizione fisica, una condizione mentale quella partita non la recupera mai. Anche con lo Spezia abbiamo visto un baritonico dal punto di vista atletico. C'è un'altra telefonata, prendiamola, prendiamo in pubblicità. Pronto? Ciao Enzo. Ciao, ciao. Dico la saluta a Gigi. Grazie. Io spero che chi ne dica scusa mi se lo dico, dottor Antonucci, che spero che Torrento vada via. Io spero che Torrento rimanga. Perché dottor Antonucci non lo so. No, lui spera che vada via perché gli vuole bene, vuole che faccia carriera. Lo so, però non è che stiamo giocando a Casarano qua. Questo è il Bari comunque. Comunque darà una scienza enorme per Torrenti. Da una, come posso dire, una casa sonora molto importante per lui. Sì, ma lo devi attendere. Io spero, chiedo scusa, spero che gli imprenditori non stiano aspettando il fallimento. Perché questo davvero sarebbe una bruttissima cosa. Se gli imprenditori stanno aspettando il fallimento per buttarsi sopra il Bari. Certo. O adesso o non dopo. O mai più. O adesso mai più, infatti. Grazie Riccardo per il tuo intervento. Pausa pubblicitaria, poi glielo vi insieme con il Biancherosso di Sport.